Il Consiglio Comunale 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 trasferire e ridare dignità a questo servizio sociale, trasferirlo possibilmente al ex casa di riposo di Viale della Resistenza dove già esistevano gli uffici oppure valutare se ci sono altre opportunità anche in altri uffici comunali. Questo perché? Perché questo trasferimento verrà fatto d'urgenza. Non abbiamo nessuna intenzione di lasciare i servizi sociali per molto tempo in questa condizione e contiamo per settembre di vedere risolto il problema. Questo è stato il nostro primo atto, uno dei primi atti, una delibera che abbiamo approvato ieri ovviamente con la valutazione anche dei lavori pubblici perché ci saranno da fare degli interventi. Di questo milione di euro di cui Franca Carta parla in maniera inconsapevole non vi è traccia. Ci sono circa 300 mila euro che possono essere utilizzati attraverso una variazione del piano terrenale delle europee pubbliche per rimettere insomma diciamo in sesto la parte uffici dell'ex CRA ma noi abbiamo anche tutta l'intenzione di rimodulare anche il finanziamento per la costruzione del nuovo centro residenziale anziani possibilmente diciamo portandolo su una ristrutturazione complessiva dello stabile di Viale della Resistenza. Questo perché come abbiamo già detto in moltissime occasioni un buon padre di famiglia, un buon amministratore non può abbandonare una struttura pubblica come quella di Viale della Resistenza lo stato di degrado in cui è stata lasciata e soprattutto perché bisogna dare dignità sia agli utenti, agli operatori dei servizi sociali ma soprattutto in primis agli anziani che sono stati abbandonati di fatto in quello che è un ostello della gioventù. Strumentalizzazioni boomeranghe di basso profilo che non possono trarre in inganno i cittadini algheresi così l'ex sindaco di Alghero di Forza Italia Marco Tedde bolla le reazioni degli ex amministratori algheresi di centro-sinistra ad un post sulla pagina Facebook del suo partito riportate con grande evidenza dalla stampa locale post accompagnato da una foto eloquente che partendo in premessa dalla similitudine secondo la quale per la nuova giunta l'avvio del mandato è molto simile all'ingresso di squadre di soccorso in una città terremotata, giungeva alla conclusione che sarà un lavoro complicato ma la qualità e la competenza del sindaco e dei nuovi amministratori consentirà ad Alghero e agli algheresi di ricominciare a sperare e a sognare. Similitudine usata da Forza Italia per evidenziare lo stato della macchina amministrativa letteralmente demolita durante il mandato Bruno priva di sei dirigenti su sette, affollata di bravi collaboratori demotivati e senza ruolo e lo stato indecoroso del litorale urbano che la giunta conosce in questi giorni sta riportando all'antico splendore. Poste che i vecchi amministratori hanno strumentalizzato con scarso buon gusto prosegue nella notte a Tedde accusando falsamente Forza Italia di aver parlato di Alghero come amatrice e di aver fatto una gaffe social. Rispediamo al mittente queste strumentalizzazioni da Bardello Sport, denuncia Tedde che però a mo' di boomerang per uscire dalla similitudine ed entrando nella metafora si ritorcono sulla vecchia amministrazione di centrosimistra perché evidenziano ancora una volta il disastro amministrativo provocato da cinque anni di propaganda e proclami di un'amministrazione abulica. Replicando la parte conclusiva del poste di Forza Italia ribadiamo di essere fiduciosi che la qualità e la competenza del sindaco e dei nuovi amministratori consentirà ad Alghero e gli algheresi di ricominciare a sperare e a sognare. Alghero e gli algheresi lo meritano. Chiude Tedde. Ci lasciamo, c'è la pubblicità tra poco. Ritorniamo in studio. Incontro con le imprese del settore dell'agriturismo a porta a terra. Il sindaco Mario Conosce ha ricevuto le realtà produttive per un confronto sulle questioni che nel pieno della stagione stanno mettendo in apprensione il comparto. Il tema è quello della Tari, il tributo sui rifiuti urbani. A causa di un regolamento penalizzante per il settore le aziende ne stanno subendo gli effetti negativi nelle cartelle di pagamento. Presenti gli assessori al turismo Marco Di Gange, lo sviluppo economico Giorgia Vaccaro e alle finanze Giovanna Caria con i vertici della SECAL. L'incontro ha evidenziato la necessità di attuare un'attenta valutazione su una revisione e rimodulazione delle tariffe Tari per le aziende che operano nell'agro di Alghero. L'amministrazione ha detto Conoci vuole essere al fianco degli imprenditori per rendere più a quel sistema dei tributi. Ha concordato con le categorie un impegno a lavorare eventuali modifiche al regolamento nei limiti della normativa. Non si riscontra una valorizzazione reale dei luoghi ma i beni culturali diventano esclusivamente beni di consumo, location estemporane. E' così il WWF che interviene sulle torri cittadine con una nota a firma del suo delegato per la Sardegna, Carmelo Spada. C'è chi dice che con la cultura non si mangia e chi in questo modo vorrebbe dimostrare il contrario. In realtà sono le facce della stessa moneta. Una moneta buona per tutte le occasioni, confondendo la cultura con lo spettacolo, lo sviluppo sostenibile con uno sviluppo senza progresso. La cultura prosegue Spada, può e deve produrre economie e posti di lavoro duraturi. Può farlo nel rispetto più profondo dei luoghi e della storia. Ancora prima della fruizione, necessaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali in tutta Italia, Alghero compresa. Il WWF riscontra e si concentra sulla condizione di degrado della torre dell'Espero Rial, ovvero la torre Sulis, chiusa le visite nel piano superiore, con l'impedimento di non poter usufruire della meravigliosa visuale della terrazza che si affaccia sulla città. Queste sono alcune foto proprio della stessa torre, con la pavimentazione saltata e il finestrone rotondo con lo scotch in torno. Prosegue la nota, il panorama potrebbe essere messo a giusto reddito, almeno per pagare le manutenzioni, le infiltrazioni di acqua piovana, permanendo questa condizione, sono certe la torre dell'Espero Rial non può attendere neppure a sopportare presumibilmente un'acquazione estivo. Altrettanto si osserva nella torre di Portaterra, la cancellata e sbarrata e non si può neppure visitare il piano che accoglie il plastico che ricostruisce l'antica città murata. È auspicabile che venga effettuato un sovraluogo delle autorità competenti per valutare complessivamente la situazione e programmare gli interventi necessari con l'obiettivo di rendere possibili le visite e al tempo stesso si possa consentire agli studenti delle scuole cittadine di affiancare le visite guidate con l'attività di alternanza scuola-lavoro. Si auspica, si legge a conclusione di nota, che il restauro e la fruizione completa delle torre diventi presto realtà grazie alla sensibilità della nuova amministrazione comuna. Facciamo ora l'ultima pausa pubblicitaria, a tra poco. Ritorna Cinema delle Terre del Mare, festival itinerante per cinefili in movimento. Si inizia sabato 27 di luglio con l'anteprima alle 21.30 in Piazza della Giuaria che ospiterà l'installazione di Marco Velli, omaggio a tempi moderni, con Raimondo d'Ore Piano Solo e proiezioni di tempi moderni con colonna sonora originale. Ma sentiamo Alessandra Asento della Società Umanitaria di Alghero che parla proprio di questo festival. Cinema delle Terre del Mare ritorna anche in questo 2019, una manifestazione alla quale la Società Umanitaria di Alghero tiene molto. Abbiamo qui Alessandra Asento. Parliamo di questo festival innanzitutto. È un festival che è cominciato otto anni fa come una rassegna ed è nato per raccontare i rapporti tra il cinema e il mare, però con un obiettivo preciso, rilanciare la candidatura della Società del Cinema e recuperare un passato illustre come quello che era stato scritto negli anni 60 e 70 con il meeting internazionale che si svolgeva a Capocaccia. Siamo partiti allora con l'idea di un viaggio che parte dal centro della città e punta a Capocaccia dove tutto è cominciato, che però è anche un'occasione di promozione turistica del territorio perché ogni giorno cambiamo location e scopriamo un luogo importante degli spazi urbani e della città, ma anche delle spiagge e della nostra riviera del Corallo. Che cosa avete potuto notare negli anni? Le persone apprezzano? Le persone aspettano questo appuntamento con molta attesa perché comunque sentono di far parte di questo progetto ed è un progetto che è cresciuto nel tempo perché molti lo hanno sposato, a cominciare dall'amministrazione comunale che lo patrocina, ma vede il sostegno della Fondazione Alghero, c'è la Sardegna Film Commission al nostro fianco che coinvolge gli ospiti in un programma di location scouting, ma soprattutto deve il suo successo a questa rete di attori che sono gli stabilimenti balneari che ci ospitano, le strutture ricettive della ristorazione e anche da quest'anno alcune aziende, diciamo il settore agroalimentare, che hanno sposato appunto il progetto, credono nell'iniziativa e quindi partecipano in maniera attiva. L'aeroporto di Alghero, sostenuto dall'assessorato al turismo artigianato e commercio della regione Sardegna, dopo le mostre L'arte dei pani in Sardegna e Salviamo il nostro mare e Salveremo noi stessi, Zuppa di plastica No Grazie, che hanno riscosso un importante successo sia tra i passeggeri sia tra i giornalisti internazionali, in visita sul nostro territorio, grazie ai press tour organizzati da Sogeal, dal 20 luglio è attiva nelle sale dell'aeroporto di Alghero la mostra arti materiali, mestieri identitari della Sardegna. Si tratta di un viaggio alla scoperta del mondo dell'artigianato tradizionale, la mostra è una preziosa occasione per scoprire quei valori ormai quasi unici tramandati di generazione in generazione che rappresentano l'arte del sapere in Sardegna. realizzata con il contributo di Artimanos, associazione impegnata nel promuovere la cultura e la dignità dei mestieri d'arte in Sardegna, la mostra ha come obiettivo quello di preservare e divulgare la cultura dell'artigianato creativo del territorio. In occasione dell'apertura della mostra, il 20 luglio, come detto, è stato allestito nella main hall dell'aeroporto un laboratorio di Falenia Miria, nel quale l'artigiano Domenico Cugusi ha fatto vedere qualche suo lavoro. I prossimi laboratori che faranno da cornice alla mostra sono previsti uno oggi, con la lavorazione Pellecuoio con l'artigiano Graziano Viale, mercoledì 31 luglio, la lavorazione della ceramica con Angela Zuccheddu per CMA, sabato 10 agosto, tessitura con Vildascanu per Sutrabasciu. La mostra sarà visitabile sino al 14 agosto negli orari di apertura dell'aerostazione. Alan Sorrenti è l'ospite d'onore di Figli delle Stelle, la serata organizzata domani al Maden dalle 22.30. Sorrenti è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana, con pezzi evergreen come Figli delle Stelle, non so che darei, e tu sei l'unica donna per me che proprio quest'anno compie. 40 anni durante la serata in console, si alterneranno DJ Zeno Pisu e Antonello Fadda, DJ. Per ulteriori informazioni si può contattare Christian Settimi al 340-260-9645. Ed era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.